Ronde de Cartier, un orologio dal fascino senza tempo. Se cerchi un orologio che unisca eleganza, raffinatezza e tradizione, il Ronde de Cartier potrebbe essere la scelta perfetta per te. Si tratta di un modello che nasce dalla creatività di Louis Cartier, il fondatore della celebre maison francese e che si distingue per il suo stile classico e distintivo. Il Ronde de Cartier è un orologio rotondo, come suggerisce il nome, che presenta alcuni elementi tipici della casa orologera parigina. Tra questi, spiccano i numeri romani, le lancette a forma di gladio azzurrate e lo zaffiro cabochon che decora la corona di carica. Il quadrante è impreziosito da una minuteria che richiama le rotaie dei treni e dà una finestrella per la data. Il vetro è in zaffiro sintetico, resistente ai graffi e alle rifrazioni. Il Ronde de Cartier è disponibile in diverse varianti, sia per quanto riguarda le dimensioni della cassa, che vanno dai 29 ai 40 mm, sia per quanto riguarda i materiali, che includono acciaio, oro rosa e oro bianco. Il cinturino ha la possibilità di intercambiarlo grazie al sistema Quick Switch. Il movimento del Ronde de Cartier può essere al quarzo o meccanico a carica automatica. Il Ronde de Cartier ha origine nel 1937, quando Louis Cartier crea il primo orologio rotondo della Maison. Si tratta del Ronde Louis Cartier, che prende il nome dal suo ideatore e che si ispira agli orologi da tasca dell'epoca. Il modello diventa presto un'icona dell'orologeria francese e viene apprezzato da una clientela esigente e raffinata. Il Ronde de Cartier è un orologio che non passa mai di moda e che si adatta a ogni occasione.